Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi vi spiegherò come recuperare i messaggi che vengono cancellati nelle chat di WhatsApp. Per farlo dobbiamo utilizzare un'applicazione che si chiama WhatsApp Remote. Quindi andiamo sul Play Store e scarichiamola. Dopo averlo installato possiamo aprire l'applicazione. Questa è la schermata in cui compariranno tutte le notifiche dei messaggi cancellati. Se andiamo nelle impostazioni possiamo disattivare Salva la cronologia di tutte le notifiche. In questo modo, se clicchiamo su Storia disabilitata, la cronologia risulta disabilitata e evitiamo che si salvino tutte le notifiche, anche quelle dei messaggi che non vengono cancellati. Ovviamente, se volete, potete anche riattivarla. A questo punto possiamo fare una prova. C'è arrivato un messaggio che viene cancellato. Possiamo già vedere dal menu a tendina che il messaggio è stato cancellato. What's removed? Ha già catturato la notifica. Se apriamo la chat di Whatsapp, il messaggio appunto è stato cancellato. Aprovo WhatsAremode ed ecco il nostro messaggio. Facciamo un'altra prova. Abbiamo ricevuto due messaggi che vengono cancellati. Aprovo WhatsAremode e questi messaggi sono stati recuperati. E anche questo video è giunto al termine. Commentate e fatemi sapere cosa ne pensate di questa applicazione o se conoscete altri modi per recuperare i messaggi cancellati da Whatsapp. Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!